Partendo dal sito della scuola cliccare su aree riservate, area docenti. Cliccare su login, in alto a destra. Ricorda che per accedere a ILS Cortese è necessario possedere un account Chiocciolals Cortese. Se sei già connesso a Google con il tuo account personale, devi prima di sconnetterti, poi, tornare in questa pagina e cliccare su login with Google. Scegliere il proprio account Chiocciolals Cortese. Inserire la propria password e premere Avanti. Una volta effettuato il login, vedrai l'elenco delle aree e classi, a cui puoi accedere oppure, sulla destra, trovi la sezione I miei corsi da cui fare la stessa scelta. Per poter aggiungere un file nell'area è necessario cliccare prima sul pulsante Attiva modifica, in alto a sinistra. Selezionare il file che si vogliono caricare e trascinarli nella sezione corrispondente. Per esempio per inserire la programmazione dipartimentale, fare la seguente operazione. Se si vuole spostare il file altrove nella pagina, cliccare sul pulsante con le quattro freccette a sinistra del file e trascinarlo dove si desidera. Cliccare sulla pagina. Bene, se non ci sono altri file da caricare, premere sul pulsante Termina modifica, in alto a sinistra.